Tre italiane approdano i quarti, un fatto senza precedenti. Soltanto la Roma di Fabio Capello esce di scena. 21 marzo. Il sorteggio è rapido ma intenso. E abbiamo cominciato con Real Madrid. Real Madrid gioca contro Manchester United. Real Madrid-Manchester United è già una finale anticipata. Ora arriva all'AFC-Ajax. E l'AFC-Ajax gioca contro Milano. Il Milan testa di serie e trova proprio l'Ajax. E il secondo è l'Internationale FC. E l'Internationale FC will play against Valencia. Si profila un derby storico con l'Inter che incontra il Valencia. Now it should be Juventus Football Club. The opponent is clear and it's going to be FC Barcelona. Per la Juventus ecco il Barcellona come auspicato da Marcello Lippi e Alessandro Del Piero. E all'Internationale FC. E in violating l'Internationale FC. Ecco l'ечerist anche per il Willie Lippi. Grazie.